passerei la parola a Guido Cappelli di Mona Lisa rimaniamo sempre sulla produzione dei capi ma questa volta ci spostiamo anche in un settore un po' particolare che è quello degli abiti da bambino, anche newborn che noi sappiamo avere anche una normativa un po' più restrittiva Guido Sì, buonasera, grazie Silvia vado subito a condividere le slide datemi gentilmente conferma li vedete? no ok, ripartiamo allora, non mi dà eccola qua scusate un attimo il bello della diretta si vede ci vediamo eccolo qua eccoci eccolo qua bene, ok grazie mille grazie dell'invito e di poter condividere i nostri insomma questo tema così così all'ordine del giorno insomma è così complicato noi siamo Mona Lisa una realtà sicuramente molto più piccolina insomma di Benetton della collega che ha parlato in precedenza quindi un modo, un mondo un po' da approcciare anche l'approccio è decisamente diverso il mio obiettivo è appunto farvi capire qual è l'approccio che abbiamo che stiamo utilizzando e quali sono i primi risultati che stiamo ottenendo chiaro è che per noi è fondamentale anche per far capire insomma a chi ci ascolta è il contestualizzare il campo d'azione quindi in breve giusto due parole per la Mona Lisa anche per parlare un po' di numeri e sono anche quelli lì che poi portano una grande complessità a questo tema della tracciabilità Mona Lisa ha una storia di 50 anni in un marchio italiano a Retino produciamo abbigliamento da bambini come è stato detto da 0 a 16 anni di fascia alta di mercato abbiamo un portafoglio prodotti abbastanza esteso tra abbigliamento, scarpe, accessori cosmetici in generale distribuiamo in tutto in oltre 60 paesi e 66% del fatturato insomma dei ricavi arrivano vengono dall'estero consideriamo che in Mona Lisa vengono prodotti circa 800 modelli per collezione quindi sono generalmente due collezioni all'anno siamo sui 1600 modelli più capsule eventuali capsule che sono fuori dalla campagna ordinaria quindi una produzione media di circa 400.000 capi per collezione e tra materie tra scusate tra stagione estiva e invernale lavoriamo generalmente su 140 fornitori tra quelli che sono i tessuti fason fornitori di fasi o di commercializzati o accessori un turnover di circa il 30% che non è un dato così negativo però comunque anche gestire un turnover del 30% non è così non è così semplice fortunatamente abbiamo oltre il 50% della produzione puro made in Italy quindi produciamo tutto in Italia e molte fasi come oltre alla fase di ideazione creazione insomma sviluppo del modello prototipazione abbiamo altre fasi interne con delle sedi industrializzate dove facciamo il 100% del controllo dei tessuti che acquistiamo e fasi di taglio quindi la fase di taglio che poi viene inviata insomma ai vari fasoni che a volte alcune alcune fasi di confezionamento riusciamo a farle anche internamente come dicevo la dimensione dell'azienda è importante perché noi siamo sui 300 dipendenti oltre 300 dipendenti ma sui 50 negozi di personale sulla gestione aziendale escluso negozi siamo sui 100-120 persone quindi sono numeri sicuramente a livello di risorse da tenere in considerazione quindi basandoci diciamo su questa che è la nostra dimensione quello che abbiamo fatto è ok riprendiamo un tema della tracciabilità tema vivo su da Mona Lisa come diceva anche precedentemente la collega già da 10 anni che si parla comunque di tracciabilità di gestione dei fornitori con questionari però già nel 2011 sono stati fatti i primi progetti in Mona Lisa dove si applicava tramite l'RFD al capo quindi fedele al capo e si tracciava tutti i passaggi di stato fino quindi passaggio anche i vari asset fino al negozio dove c'era uno specchio digitale dove si poteva vedere la storia e i passaggi di stato insomma del prodotto non si parlava troppo di materia prima si parlava molto di più insomma di semplicemente di fasi chiaro è che l'attenzione su questo tema qua diciamo il valore aggiunto non è che ne veniva dato così tanto era abbastanza scontato che un prodotto monalisa avesse determinate qualità anche attinenti insomma alla tipologia di fornitore ora è cambiato un po' il mondo nel senso che chiaramente una maggiore consapevolezza da parte del cliente sicuramente del cliente finale ma soprattutto una strategia europea che insomma da 2022 ha dato un obiettivo di accelerare questa transizione verso un'economia circolare sostenibile insomma abbastanza impattante sicuramente quindi quando la parte è quagente sicuramente entra a far parte di un mondo come quello del fashion siamo obbligati a riportare il tema all'ordine del giorno quindi cosa abbiamo fatto il nostro obiettivo era ok prendiamo questa occasione per rimetterci in gioco su tutto il tema della tracciabilità cerchiamo allo stesso tempo di dare un valore a quello che facciamo quindi cerchiamo di comunicare in modo efficace cosa c'è dietro a un prodotto di Mona Lisa quindi tutti i suoi valori in termini anche di sostenibilità che implicitamente riguarda anche la tracciabilità dare tangibilità al prodotto facciamo tante fasi internamente controlliamo tanto durante l'avanzamento della produzione e è giusto che il cliente lo sappia è qualche cosa che ci darà un valore è faticoso trovare tutti i dati registrarli ma sicuramente può darci un valore aggiunto da non trascurare per un'azienda che fa di un livello come la Mona Lisa quindi cerchiamo di garantire questa sicurezza e trasparenza verso il consumatore tramite anche che cosa noi abbiamo deciso di in questo progetto il primo progetto di tracciabilità di integrare la tracciabilità con quindi l'informazione di tracciabilità con la blockchain quindi siamo andati a diciamo a dare ancora più garanzia di quello che comunichiamo perché a quel punto dal momento che registriamo le informazioni su blockchain l'informazione è pubblica è immodificabile e quindi responsabilizza ancora di più l'azienda a cercare informazioni veritiere da poter comunicare e mettere pubblicamente rendere pubbliche sul mercato sempre come obiettivi chiaramente ci stiamo adattando alla compliance quindi quello che è un passaporto digitale mettere le basi un passaporto digitale una gestione del prodotto a fine vita o del rifiuto con blockchain e tracciabilità comunque protezione del prodotto in made in Italy va da sé sono praticamente argomenti che si sposano con estrema semplicità e allo stesso tempo se facciamo tutto questo è perché cerchiamo che anche il cliente insomma abbia un'esperienza sicuramente diversa quando vado ad acquistare un prodotto possa fare delle scelte e la posizionamento verso competitor è sempre è sempre all'ordine del giorno bisogna bisogna adattarsi quanto prima a tutti questi cambiamenti per rimanere sul su questo mondo insomma sempre molto molto complesso il tema del fashion quindi l'obiettivo è non vi fidate ma verificate quello che comprate il concetto da portare al cliente finale quindi qual è stato il nostro approccio molto rapidamente noi abbiamo fatto una partnership con i Zetalab che sono una azienda innovativa PMI innovativa con cui abbiamo sviluppato ideato insomma tutto questo progetto di tracciabilità con loro abbiamo scelto di gestire di tracciare quindi solo una prima linea ne facciamo 15 16 all'anno di linee comunque la linea per eccellenza la più artigianale la più rappresentativa la più alta anche a livello economico la è la linea Couture che ha molte fasi internamente cioè il nostro concetto era questo che difficoltà troveranno i nostri fornitori testiamoci in primis su quelle possono essere difficoltà e allora quello che abbiamo scoperto è che siamo partiti da lavorare con questo progetto ideare questo progetto con stile acquisti e produzione e poi ci siamo resi conto che quando si parla di tracciabilità nessun reparto nessun processo ne rimane fuori quindi c'è stata un'estensione a tutto il marketing commerciale controllo qualità logistica digital l'ICT successivamente ci sarà anche tutta la parte amministrativa contabile perché comunque quando poi si parla di nomenclatura combinata parte doganale sarà un tema che prenderà a macchia di olo tutta l'azienda è da tenere in considerazione sempre come come effort e come risorse per gestire questa questo tema della tracciabilità e sostenibilità quindi noi che cosa dove l'abbiamo come l'abbiamo strutturata siamo rimasti diciamo su una prima linea acquistando tracciando materiali principali tessuti accessori i fornitori che da cui acquistiamo tessuti accessori la richiesta di test e certificazioni sulle materie prime sugli accessori o su certificazioni che ha il fornitore chiaramente queste informazioni sono tutte registrate poi in blockchain poi abbiamo tracciato le fasi creative di sviluppo che sono interne come la parte di commessi di produzione e le fasi di lavorazione quindi fasi fason se sono esterni o comunque appunto per un paio di modelli che hanno tutte le fasi interne quindi la nostra modelleria ci ha lavorato e abbiamo tracciato queste fasi qua infine controllo qualità e test insomma del controllo gli step per ora sono questi come strumento per ora noi siamo alla valutazione di chiaramente di piattaforme ad hoc per la gestione della tracciabilità e eventualmente anche dell'impatto ambientale attualmente noi usufruiamo del PLM come database generale dove all'interno l'abbiamo ci sono tutti i vari asset aziendali quindi materiali fornitori accessori modello modello parte tanti step di tutto è registrato cosa viene fatto da chi quando come tutti i documenti di certificazioni di test subiti da materiali o dagli accessori sono al suo interno e abbiamo pensato insomma di prendere questo strumento come principale per la raccolta delle informazioni abbiamo scelto cosa comunicare e abbiamo iniziato ad andare dai nostri fornitori che facevano parte di questo progetto a introdurre a spiegare qual era l'obiettivo e che sarà anche poi quello futuro da estendere a tutti gli altri fornitori successivamente abbiamo chiaramente applicando un'etichetta digitale abbiamo applicato un'etichetta digitale ad ogni capo li abbiamo tracciati li abbiamo messi sul mercato e adesso tramite una dashboard riusciamo a controllare i risultati perché è sicuramente interessante ok c'è una parte di normativa che ci vincolerà però quanto effettivamente il cliente è così consapevole quanto interesse c'è su questi temi a noi piaceva saperlo e quindi diciamo stiamo cercando stiamo ottenendo dei risultati che ci danno che insomma adesso vi condividerò per capire insomma se stiamo andando effettivamente sulla strada giusta come abbiamo coinvolto i fornitori scusate sono andato troppo avanti allora tutti i fornitori Monalisa sono sotto contratto con quelli che sono rispetto di codice etico questionario che è oltre dieci anni che comunque riguarda temi oltre che alla qualità di lavorazione ma anche temi di social responsibility ambientale sicurezza Monalisa ha varie certificazioni e impone che i propri fornitori rispettino determinati requisiti si consideri solo che Monalisa ha la certificazione S8000 quindi sulla social responsabilità dal 2003 penso sia una delle prime in Italia che aveva questa questa certificazione quindi l'aspetto chiaramente andando a produrre un abbigliamento per bambino tutti i temi oltre alla parte di tecnica e di sicurezza anche tutti i temi di chi produce produce quel quel capo di abbigliamento è stato sin dall'inizio insomma sotto la lente di ingrandimento quindi diciamo che grazie a questa a questa tracciabilità da anni estesa con la gestione dei fornitori questi a loro volta devono subire audit a questo punto per ora sempre in maniera almeno annuale e le rivalutiamo ogni anno quello che sta cambiando adesso è che stiamo cercando di portare come è stato fatto con i due fornitori con cui abbiamo fatto il progetto abbiamo condiviso i nostri obiettivi del piano di sostenibilità quindi inclusa la tracciabilità abbiamo incominciato a parlare di rendicontazione noi facciamo una DNF una comunicazione un report annuale dove comunque si va già a parlare di parti insomma di temi ambientali con l'ISG e le varie normative insomma europee su questi temi abbiamo vari target sullo scopo 1, 2 e 3 sul 3 è chiaro che come è scontato se non si lavora con i fornitori non si mette in condivisione delle metriche è chiaro che è difficile anzi praticamente impossibile dare un risultato peritiero tangibile o migliorabile sullo scopo 3 durante questi incontri che faremo che abbiamo fatto ma fortunatamente i fornitori con cui abbiamo lavorato fino a ora erano già a un ottimo livello quello che ci aspettiamo è che in futuro invece per molti dovremmo fare delle integrare l'audit qualitativo a un audit formativo su questi temi e stiamo valutando delle contratti premianti non a livello economico ma chiaramente la valutazione del fornitore in termini non è più una valutazione come dicevo prima solo sull'aspetto di produzione di qualità della produzione ma il punteggio finale è sommato da tutte queste altre caratteristiche di informazioni che ci invieranno che metteranno costi quindi visibili su tutti i temi sociale ambientale che insomma fanno parte adesso del nostro piano di sostenibilità dove siamo ve l'abbiamo ve l'ho detto siamo su in questa fase di tracciabilità della linea della linea Futur dalle informazioni da entro giugno speriamo di avere una mappatura completa dei nostri supplier abbiamo un programma molto stringente sulla sugli oditi da fare da qui a giugno perché per noi adesso è fondamentale capire a che livello sono tutti i nostri fornitori per molti possiamo possiamo stare diciamo tranquilli nel senso che sono sicuramente fornitori di alto livello altri magari lo sono ma dobbiamo avere più garanzie per l'obiettivo è tracciare tutti i capi la nostra linea per le nostre linee per fine del 2024 a che livello di informazione lo dovremmo ci stiamo ragionando chiaro è che giusto per farvi vedere un po' il risultato questa è la direzione digitale che abbiamo realizzato ci sono informazioni su chiaramente sul prodotto sull'azienda su tutta la storia della sostenibilità di Mona Lisa dall'artigianalità che la contraddistingue e tutta la descrizione delle fasi queste sono solo tre di esempio però per farsi per capire qua ci sono tutte le fasi che stiamo tracciando registrate come vi dicevo in blockchain si parte da un'idea creativa dove c'è già anche l'idea della bozza del bozzetto iniziale con tutta il perché la parte creativa insomma che ha portato all'realizzazione di quel prodotto tutte le fasi commesse registrazioni commesse di produzione tutti i controlli che subiscono i nostri materiali materiali principali accessori quali test subiscono e i risultati dei test sono attestati sono poi registrati in blockchain quindi quello che stiamo facendo sulla parte sinistra è quello che abbiamo fatto quindi stiamo tracciando l'ideazione del prodotto scelta origine materie prime garanzia d'origine test e certificazioni su punto materie prime prodotto finito fase taglio fase confezionamento questo sono per i capi di linea future che sono già in commercio dalla prossima collezione aggiungeremo informazioni sul trasporto consegna nomenclatura combinata id e peso sempre per avvicinarsi sempre un po' di più a quello che è un passaporto digitale quando poi avremo indicazioni molto più chiare di che cosa effettivamente andrà sul passaporto digitale probabilmente correggeremo un po' queste informazioni o le aggiungeremo da studiare cioè da studiare vuol dire che ci stiamo studiando ora è tutto l'infatto dell'impronta ambientale e l'indicazione sul fine vita ancora non siamo non abbiamo uno strumento di raccolta di queste informazioni ci stiamo un po' studiando perché la previsione insomma è che si prospetta è una complessità abbastanza elevata quello che vi posso vi possiamo dire vi posso dire è che comunque sia il tema della questi capi accompagnati dall'etichetta digitale hanno stanno reportando un buon interesse quindi ci sono buoni numeri di lettura da parte dei clienti finali dove chiaramente c'è l'accompagnamento di una parte commerciale che invoglia e comunica che questi capi hanno queste etichette però diciamo che l'interesse è anche confermato dal fatto che il tempo di lettura delle etichette quindi delle informazioni messe in digitale sono insomma si parla anche di tre minuti tre minuti e mezzo quindi vuol dire che ci sono c'è una buona risposta e attenzione comunque interesse nel leggere le informazioni che riporta l'azienda con la dashboard che abbiamo vediamo anche esattamente quali sono i punti le informazioni che stiamo mettendo che hanno maggiori interesse questo ci permetterà un po' di correggere il tiro da un punto di vista di fornitori come vi dicevo per ora abbiamo lavorato con abbiamo fatto quasi tutto internamente ma con i fornitori di materie prime di fasi con cui abbiamo lavorato per la linea Futur erano diciamo già c'è già un'ampia consapevolezza da parte dei fornitori di questi temi e si stanno già proprio adattando anzi qualcuno sinceramente sono anche più avanti di noi e questo fa sicuramente ben sperare le criticità che abbiamo trovato sono nella raccolta trasferimento informazioni adesso è tutto manuale prendiamo il PLM spostiamo Excel condividiamo la piattaforma con i Z Lab e creiamo un'etichetta digitale creazione dei contenuti per quanti creare un'etichetta così per una customer experience un po' migliore per il cliente significa creare contenuti personalizzati e sempre in termini di risorse è un aspetto da non trascurare perché come mi lancio un po' di numeri in fondo alla slide però il tema è che se parliamo di tracciabilità e parliamo di impatto ambientale in un'azienda come Monalisa che fa 1600 modelli non continuativi quindi aspetto da rimarcare non continuativi circa sono circa 40.000 SQ all'anno distinte basi su un prodotto della cultura si arriva anche a oltre 15 componenti per distinta base andare a tracciare tutto questo per un'azienda una media impresa come la Monalisa è sicuramente un argomento che porterà la direzione a rivedere comunque o aggiornare il piano industriale anche su quelli che saranno i costi gli impatti per la gestione di un'intera della tracciabilità di tutte le linee di tutti i prodotti di Monalisa quindi niente i prossimi step saranno appunto la mappatura dei fornitori le suddivideremo su tre categorie in base chiaramente al livello dove li troviamo dove li troveremo abbiamo l'intenzione di fare degli auditi più approfonditi sulle piccole imprese artigianali perché l'aspetto tecnologico come già stato più volte detto è un aspetto assolutamente da non trascurare cioè da capire come aiutare queste piccole imprese perché come si è detto se non si digitalizza le informazioni è difficile avere un risultato finale come portare la digitalizzazione in queste aziende composte a volte da tre quattro cinque artigiani di vecchia generazione è veramente complesso e infine l'aspetto invece noi per nostro forse che sarà più complicato è il tema sul fornitore estero siamo abituati molto a lavorare con fornitori italiani molti storici sul fornitore estero ci fermiamo alla prima linea ai pillar fondamentali chiediamo garanzie certificazioni di prodotto garanzie d'origine assolutamente come andare più in profondità in questi in queste nazioni dove ci sono regolamenti diversi da regolamenti europei e senza avere noi una presenza fisica costante sul posto insomma è sicuramente un tema su cui riflettere e approfondire nei prossimi mesi basta finisco grazie grazie Guido allora adesso sono andato lungo forse scusate no no non preoccupare ci sono delle domande però per Nicoletta Sartori che ci deve lasciare quindi gliele volevo rivolgere ma prima di tutto volevo togliere le mie curiosità perché forse c'è una cosa che non ho capito bene la presentazione ma tutti gli impatti per quanto riguarda le informazioni sulle fasi precedenti la produzione del tessuto quindi materia prima filato eccetera cioè in realtà il vostro hub di raccolta di informazioni è il fornitore del tessuto quindi non andate direttamente a tracciare anche i fornitori della materia prima e del filato e avere quindi un dialogo con loro è il vostro hub di raccolta dell'informazione è il fornitore del tessuto che vi comunica anche le informazioni sulle fasi precedenti perché dalle slide ho capito così domanda a me sì 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 esattamente sì sì quindi non è un'informazione di prima di prima fascia diciamo è un'informazione riportata è un'informazione riportata e noi quello che stiamo organizzando è proprio come avere garanzia che le informazioni che ci vengono riportate dal fornitore del primo livello siano veritieri insomma che siano tangibili e poi cercheremo tramite una politica anche di cambio contrattuale di un po' quello che è stato detto prima di invertire questa tendenza del non avere informazione sul sub fornitore noi per ora abbiamo trovato molti scogli su questo su questo tema di andare in verticale in profondità sulla catena di fornitura soprattutto all'estero e adesso probabilmente con tutta questa attenzione e queste richieste da parte di tutte le aziende italiane o comunque europee probabilmente sta cambiando qualcosa e cercheremo di di approfittarne ecco questo sicuramente